Lunedì 3 agosto nei locali del Bargiolla in via Castelfidardo, zona San Cristoforo, si è svolta l'assemblea costitutiva del club Forza Alma che dopo qualche anno si è di nuovo costituita con l'obiettivo insieme ai Panthers di dare lustro alla città aiutare il presidente Gabellini nel migliorare il traguardo se possibile, perfezionarlo e portare l'arma nelle categorie dove merita e naturalmente far ritornare a gremire il vecchio Borgo Metauro un luogo dove i tifosi di qualsiasi età dall'anziano al genitore con bambini possono ritrovarsi per condividere le proprie esperienze per passare una giornata insieme a vedere l'alma, condividendo anche momenti conviviali, esperienze e soprattutto per dimostrare al presidente Gabellini e alla squadra che non sono soli che c'è una città che li sostiene, che c'è un cuore che pulsa per loro e che quindi devono essere sicuri che c'è un gruppo di persone sempre più grande che li sostiene indipendentemente da quelli che sono i risultati da quelli che sono le vicende del campo perché qui c'è qualcosa di più, c'è un amore di una città verso una squadra di calcio Questi ragazzi hanno bisogno di noi, non lasciamo solo il presidente, noi vogliamo fare un tramite fra la società, i tifosi, la città e far sentire il calore, anche il presidente e la squadra che siamo vicini, vada come vada noi saremo sempre del Fano perché l'alma come aquila vola Grazie Grazie